L'associazione Nuove Idee di Padula ha indetto la prima edizione del concorso Poesie e Arte per candidarsi. C'è tempo fino al 2 ottobre per informazioni telefonare al 340 68 98 96 849. Noi siamo comunque in compagnia del presidente dell'associazione Giuseppina Sorrentino e quindi già con lei possiamo iniziare a capire di più di questo concorso. Le sue amiche possono accomodarsi, ecco qui sono venute a trovarci a Villa Mare da dove trasmettiamo, ricordiamo, in diretta il Tg Estate. Buon pomeriggio, grazie per essere qui. Un concorso rivolto a chi ama scrivere rime, scrivere poesie. Sì, abbiamo indetto questo concorso dato che padre Minozzi, uno dei fondatori del collegio degli orfe di guerra della Certosa di Padula probabilmente a fine anno sarà beato, sarà fatto beato, poi successivamente santo. Per questo motivo noi associazione culturale di Padula abbiamo indetto la prima edizione di questo concorso. Questo concorso è aperto a tutti, anche agli stranieri. Le tematiche velocemente sono quelle della poesia, l'invanzi e tempo libero e poi quelle fatte di arte che toccano la Certosa di Padula, Padre Issemeria, Padre Minozzi e gli orfani della Certosa. È dedicato questo concorso che scade il 2 ottobre per la presentazione di queste opere e poi la premiazione e tutto sarà fatto il 26 ottobre in occasione del nono convegno che noi facciamo per gli orfani di guerra. Che cosa bisogna inviare all'associazione? Le opere già composte? Sì, delle opere già composte, poi c'è la scadenza che ho detto precedentemente, queste opere poi verranno premiate e possono essere qui sul regolamento, ci sono le dimensioni, le poesie in un oltre i 40 versi eccetera per cui loro devono mandare quest'opera e poi devono inviare 10 euro per ciascuna opera sulla posta a pay dell'associazione. Bene, quindi io ricordo il numero, così potete chiedere informazioni, 346-588-4616. Ma perché ricordate Minozzi? Noi ricordiamo Minozzi perché Minozzi in effetti è uno degli uomini più importanti del Novecento. Questo era un cappellano militare e in guerra vedeva che tutti quelli che stavano morendo nella guerra, immaginiamo, soprattutto la prima guerra, la guerra mondiale, e questi erano disperati. Noi moriamo per la patria, morite per la patria, il Signore vi benedirà. E i nostri figli, e come facciamo? Immaginiamo l'epoca, sei figli, sette figli. Allora loro uscirono vivi dalla guerra, lasciarono l'università, le parrocchie, tutto. Erano due, due uomini importantissimi, soprattutto culturalmente, religiosamente e in tutti i sensi. Si dedicarono a tutta Italia, anche all'estero, a creare queste case, questi collegi per salvare gli orfani di guerra. Ne crearono 168 e salvarono circa 26.000 orfani di guerra. Alcuni furono ospitati nella Certosa di Padula. Ecco qui perché parte poi da Padula questo concorso. Uno degli orfanatrofi, anzi il più grande d'Italia, era proprio la Certosa di Padula. Ovviamente parlando della Certosa parliamo di una struttura di 5.200 metri quadrati. Potevano ospitare di tutto, tanto che hanno ospitato la bellezza di 1.064 orfani dal 1923 al 1960. E voi, associazione, siete riusciti ad individuare oltre 600 di questi orfani, che sono 640, che sono stati ospiti della Certosa. E siete in continuo contatto. E la dimostrazione sono anche questi due libri che avete pubblicato. Uno porta i contenuti, le poesie scritte di alcuni di questi orfani, altri invece i racconti di alcuni orfani. Cosa, per esempio, ha qualche racconto? Questo qui ritorna al passato. In effetti questo libro raccoglie 40 storie di vita di questi orfani che sono vissuti in Certosa. Sono storie bellissime, reali. Pensate che la maggioranza non avevano né la mamma né il padre. Quindi loro erano i loro amici, erano i compagni. E gli altri orfani, non che i sacerdoti, che sono stati veramente eccezionali e speciali. E uno di questi è stato proprio padre Minozzi. Un racconto che l'ha, diciamo, tra i tanti. Quello che, diciamo così, è meraviglioso è quello di un orfano, Vito Marcandonio, che è stato 10 anni in Certosa. E che ha avuto una tragedia familiare, vissuta da lui a 6 anni. Morti mamma e padre in modo tragico. Questo nella vita si è realizzato, è diventato qualcuno, figli laureati, un'ottima famiglia e ha scritto 60 poesie, bellissime, dirette alla mamma perché ha visto morire la mamma davanti ai suoi occhi. E questo libro l'abbiamo pubblicato noi, itinerario poetico di vita, il 2011, il 2012, questo. E poi abbiamo anche intitolato un blesso scolastico a Padula, un blesso completo a Minozzi e una strada vicino alla Certosa a Padre Semeria. Perché entrambi sono stati a dirigere questo collegio. Voi comunque cercate di tenere sempre uniti questi 640 ospiti che sono stati accolti in Certosa. Ogni anno, diceva? Dedicato all'uno, all'altro, alla testimonianza o ai libri. Ogni anno, a settembre, facciamo un convegno dedicato alla giornata del ricordo agli orfani. Cosa ora, quanti anni avranno? Gli orfani? Beh, hanno la mia età perché pure io sono stati... Beh, ci sono anche quelli più giovani, quelli della seconda guerra. Beh, quelli della prima guerra in effetti... Lei era un'alunna in Certosa all'epoca? Stavo con gli orfani, in classe, con 25 orfani. Ho sempre detto nella vita, li voglio incontrare, i miei amici, i miei compagni, i miei amici. Infatti io, proprio incontrando degli orfani, ho cominciato questa storia. La prima cosa che abbiamo fatto, la storia dell'orfanatrofio. Perché è stato addirittura un periodo sconosciuto della Certosa. Dato che la Certosa era chiusa, nessuno sapeva niente. Beh, nessuno, noi sicuramente, che ci stavamo a scuola. E allora ci sono stati 37 anni questi orfani. Ed è stato l'orfanatrofio più importante e più grande di tutta Italia. Bene, visto che parliamo della Certosa, ed è un monumento patrimonio dell'umanità. Lei se ne cura anche, prende anche cura della guida turistica di questa Certosa. Cos'è, diciamo, perché bisogna visitarla? Bisogna visitare questa Certosa. Io faccio la guida da 37 anni e ho visto sempre che i meridionali non ci sono. Ho fatto migliaia di guidi, 5.000 errotti, in maggioranza 7 anni. È da visitare, è la più bella, è la più grande. In effetti, il mondo ha duecento. Noi abbiamo studiato le Certose con l'associazione. Abbiamo fatto delle profondissime ricerche. Le abbiamo pure scritte. Aspettiamo qualcuno che ce le pubblica. Le 36 Certose italiane noi le abbiamo scritte e visitate. E quindi Padula è la più grande, la più importante, quella più ricca di storia. In effetti, nonostante sia stata depredata al 50% dai francesi, dagli italiani, da un poco di tutto, c'è da dire che ci sono ancora dieci cose meravigliose. Ci sono 14 altari di madreperla, lapislazzoli, alabastro, che non ci sono da nessuna parte. C'è una scala a chioccia che alla fine del mondo ancora non si è saputo chi l'ha fatta. C'è lo scalone del Vanditelli, ci sono 36 chiostri. Basta dire le dimensioni, 5200 metri, 420 stanze, 51 scali, 500 finestre. E mi fermo perché è troppo lungo. È da vedere. Magari la inviteremo una volta. Magari una volta. Allora, lei non si spegne. Se io non la spengo... Devo fermare. Eh, sì, si deve fermare. Allora, di che vogliamo... Che avete mangiato oggi? Oggi? Pasta al forno. Ah, ma quindi avete avuto anche il tempo di cucinare e mangiare. Non ho fatto la guida oggi, eri. Io sono la guida gratis storica. Gratis storica. Gratis storica. Da 37 anni. Non a tutti, ai bambini, eccetera, ai ragazzi, alle scuole. No, no, allora questo andrebbe all'infinito. Allora, però rimanete qui, non andate via, perché dopo, siccome lei è anche una brava ballerina... No, facciamo insieme. No, balliamo insieme. Insieme. No, no, no. Facciamo ballare. Però rimanete qua. No, vi preoccupate. Anche facciamo ballare, faremo ballare. Prima invece di incontrare queste due belle ragazzine che abbiamo qui per parlare di un concorso di bellezza, voglio ricordarvi che fino al 3 agosto a Sassano si tiene la Sagra del Maiale. Ad Albanella fino al 3 agosto invece ci sarà la Sagra, il borgo degli antichi sapori.